io sono il salutatore, ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan saluto, cosa che devo fare, sei da radio? no, sono il salutatore saluto a tutti e ti do la maniera che te la regalo, la maniera del salutatore sei un grande, ciao a tutti i fan ciao a tutti ecco, grazie, ciao